bene ci siamo siamo live secondo giorno mi auguro che anche tu hai partecipato alla primissima diretta e come dicevo ieri l'importante è seguire un percorso seguire un ciclo poi ognuno si fa le proprie idee poi se non eri presente ieri ti ripeto che questo non è un canale legato in modo preciso a una religione o una filosofia prende più aspetti poi è ovvio e 4 lo dico perché è estremamente importante devi credere in una cosa e mantenere quel credo inutile a oggi sono un po di quello domani sono un po di quell'altro domani sono un po di quell'altro lì domani indosso quel vestito quindi se in questo momento senti il desiderio che il tuo maestro la tua guida il tuo messaggero il tuo mentore sia una persona una figura il tuo il tuo subconscio ti ha comunicato un simbolo oppure in un sogno ti è arrivato un messaggero tieni quello tieni quella figura per un periodo di tempo e lavoraci con quella persona lavoraci e sperimenta con quella persona molte volte ci nascondiamo dentro un vestito ma molte volte vediamo una persona che ha un vestito giallo arancione una collana particolare allora gli diamo un titolo poi si toglie quel vestito non è più con la figura non è più con la persona ma in realtà quando tu sei quando tu sei in cammino sei un cammino spirituale tu sei a prescindere dal vestito il vestito è un'etichetta che ti danno dal momento in cui tu sei all'interno di un certo tipo di percorso che va benissimo ci deve essere ma quella persona una volta che alla sera o il pomeriggio toglie quel vestito è sempre quella persona che ha studiato che ha fatto quel percorso e quindi non vuol dire che torna a casa toglie la collana toglie il suo bracciale non è più quella figura ecco questo è pericoloso quindi intanto inizia a comprendere quanto tu vuoi credere in una cosa diventa sempre un tuttologo no io faccio di tutto di tutto cioè faccio un'impresa è come dire l'idraulico elettricista frigorista poi faccio l'imbianchino poi muratore tutti i diresti di quella persona non ti fideresti di un dentista che domani mattina fa l'osteopata con tutto rispetto quindi poi sicuramente il dentista magari ne saprà anche di 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 un lavoro come l'osteopati l'osteopata o viceversa però non vuol dire che deve diventare un tuttologo dal momento in cui una persona si avvicina a lui quindi intanto cercati una una persona di riferimento un maestro di riferimento e poi stai con quella figura e ripeto non deve diventare un fanatismo non deve diventare un qualcosa di credi solo in quella cosa ci credi tu poi avanti continua persevera e vedrai che arriverà il risultato giusto per te ok quindi non ti devi attaccare al risultato non ti devi attaccare al tuo ego ma entrare in contatto con la tua parte più profonda e non c'entra la mente non c'entra l'identità non c'entra l'ego non c'entra il titolo l'etichetta che ti stai dando su di te quindi oggi rifletti bene su questo argomento ma quella persona ha lo stesso bracciale uguale al mio allora vuol dire che della stessa religione mantiene la stessa fede no non è detto non è detto perché domani mattina quella persona cambia di partito cambia di diventa tifoso di un'altra partita e quindi cosa fai dice vedi lo sapevo non esistono più le persone che ti danno veramente fiducia nel tempo quindi cerchiamo di capire qual è la nostra la nostra verità e dove trovare la nostra verità oggi volevo parlare di questo argomento legato sempre alla forza delle intenzioni apriremo sempre questi cerchi ogni volta che vedrai queste dirette legate alla forza della preghiera e quindi dovrai immaginare come abbiamo fatto ieri io sarò comunque con gli occhi aperti mi era successo una volta che avevo fatto una meditazione con un gruppo la meditazione mi stava venendo benissimo da solo così ero avvolto da tutte le immagini con occhi chiusi poi un certo momento il mio computer si è scollegato da internet e ho perso tutto il gruppo e mi è dispiaciuto un sacco poi abbiamo recuperato quindi ecco non voglio che accada ancora un'altra volta una situazione del genere quindi sarò con te ad occhi aperti guarderò comunque sempre il video che ci sia sempre connessione quindi immagina in questo momento occhi chiusi occhi aperti di essere all'interno di un cerchio che puoi immaginare magari che sei seduto in piedi come se fossi all'interno di una tribù una vecchia tribù e al centro di questa tribù tribale c'è un fuoco fuoco che aiuta a scaldare i nostri cuori che aiuta a riportare passione che aiuta a portare quella forza dentro di noi con la vitalità ci permette di sentirci parte integrante di qualcosa di molto più grande molto più esteso e ora facciamo tre respiri insieme un altro respiro insieme tutti insieme lascia andare un altro respiro insieme inizia immaginare che dal tuo cuore possa uscire una luce luminosa che si collega di cuore in cuore questo cerchio di luce si espande sempre di più una luce che porta guarigione nelle nostre anime una luce che porta amore energia in ogni singola casa in ogni singolo palazzo luce che porta un intento di amore nel tuo territorio nella tua regione e ora immaginiamo che questo cerchio va verso l'alto e attraverso questa luce che esce dai nostri cuori possa dare luce alla razione alle persone che in questo momento stanno vivendo delle difficoltà e ancora di più sali sali sempre di più attraverso questa luce ti colleghi in tutto il mondo questo grande universo e vedi che il mondo diventa luce diventa amore diventa energia e lentamente respira questa intenzione respira questa vitalità respira questa forza che senti che circola di cuore in cuore mantienila dentro di te e ora quando vuoi se vuoi puoi mantenere gli occhi chiusi o ritornare qui nel tuo posto dove sei partita e partita e voglio darti questo concetto legato all'intenzione la forza dell'intenzione che ha quattro punti fondamentali la prima è mi devo augurare che accada qualcosa e lasciamo perdere per un momento la speranza mi auguro che tu stia bene mi auguro che tu hai un lavoro mi auguro che tu trovi il tuo compagno di vita la compagna di vita mi auguro che tu trovi quello che stai cercando lo puoi fare a una persona ma lo puoi fare anche nei tuoi confronti mi auguro che da oggi inizio a ok l'augurio è importante l'augurio ti permette di toglierti dall'ego perché il più delle volte la nostra società ci insegna che sta meglio una persona che ha fallito no? perché almeno lui hai visto che non ce l'ha fatta piuttosto che lui ha successo quindi dobbiamo un po' cambiare questa mentalità che non ci aiuta a espandere veramente la nostra unione la nostra unione di intenti uno, l'augurio due mi auguro che ok desidero ok mi auguro che e desidero che quindi è un mio desiderio un mio desiderio perché lo desidero e tre lo voglio mi auguro lo desidero lo voglio vedete come aumenta e si intensifica l'intenzione e me lo merito perché il più delle volte diciamo a noi stessi sì sì voglio stare bene poi c'è qualcosa in profondità che ci permette non ci permette di evolvere perché ah no vedi mio nonno non è riuscito nella sua vita non è riuscito nel suo intento quindi non è giusto quindi non me lo merito mio papà non ha avuto successo nella vita quindi senso di colpa e non me lo merito nemmeno io non me lo merito nemmeno io che devo avere successo ok quindi è importante mi auguro lo desidero lo voglio e me lo merito e poi ovviamente entriamo nel concetto spirituale quanto ci credi veramente quanto ci credi veramente che accada quanto credi veramente nel tuo potenziale quanto credi veramente che entri in connessione con una forza maggiore bene quindi adesso abbiamo visto ieri che per entrare nella preghiera è importante fare silenzio con noi stessi concentrarsi svuotare la mente e ascoltare il nostro corpo il nostro cuore e poi chiedi con la forza dell'intenzione mi auguro lo desidero me lo merito lo voglio ok e non siamo ancora entrati nella potenza della preghiera a parte quella di ieri che abbiamo letto quella di San Francesco una preghiera potentissima quindi che dirti intanto lavoriamo sull'intenzione perché l'intenzione è quella punto fondamentale che ruota la nostra forza la nostra vitalità ma ci permette di portare nel cerchio tanti aspetti legati a quello che veramente tu vuoi realizzare ok bene intanto ci vediamo domani mi raccomando rimani sempre con la mente aperta se ti è piaciuto questo intanto questo inizio di percorso se hai voglia di condividerlo con le persone che vuoi bene se ancora non l'hai fatto iscriviti qui a questo canale e se vuoi aiutarmi a condividere con un super grazie qui sotto ci sono tre puntini clicca sui tre puntini e ti viene fuori grazie con un coricino ci clicchi dentro e puoi supportarci anche in questo modo oppure se hai il cellulare scorri la barra qui sotto in descrizione dove c'è la descrizione sopra c'è una barra e c'è un tasto grazie e lì puoi sostenerci come vuoi per darci insomma un supporto che ci aiuta sempre oltre a la condivisione oltre ai like ok a domani ciao